Una donna salvata grazie al tempestivo intervento dell'equip medica presente al pronto soccorso dell'ospedale Tortora di Pagani. Lo zelo, la professionalità del medico e degli infermieri di turno ieri sera hanno scongiurato guai seri per una donna che si era recata al punto di primo soccorso del nosocomio paganese presentando problemi cardiaci. Il figlio della donna ha voluto sottolineare l'accaduto ringraziando il dottor Salvatore Fiore e l'equip infermieristica del pronto soccorso del Tortora attraverso un gruppo social di Facebook. Medici e infermieri, una volta giunta la donna in ospedale, hanno effettuato rapidamente alcuni accertamenti diagnosticando un grave scompenso cardiaco che avrebbe potuto portare al decesso della donna in poche ore. È stato effettuato subito un massaggio cardiaco, una manovra di rianimazione determinante, prima di trasportare la paziente nell'ospedale vicino al reparto di competenza per proseguire e approfondire l'indagine medica. Insomma, salvata per un pelo, grazie a medici e infermieri solerti e attenti, un episodio che deve farci riflettere, perché la sanità nell'agro nocerino è sempre nell'occhio del ciclone, in balia delle polemiche, con carenze, urgenze e problemi risolti che minano la corretta funzionalità dei servizi, nonostante però la presenza di professionisti di rilievo, medici e infermieri che quotidianamente si impegnano per superare ostacoli e difficoltà. In Campania, nello specifico anche nel Salernitano, la sanità è argomento sempre delicato, complicato, condizionato da aspetti politici che invece dovrebbero solo accompagnare e sburocratizzarne l'organizzazione. Spesso i media, anche la nostra emittente, sottolineano quanti sono i disagi causati dalla sanità che non funziona, ma è giusto rimarcare e dare spazio agli episodi positivi, proprio come quello di ieri sera. Per medico e infermieri l'intervento però dell'ospedale di Tortora di Pagani di ieri rientra nella normalità del lavoro che ogni giorno viene prestato agli utenti al netto delle problematiche che insistono in ogni ospedale del territorio.